Da Campi, Bisenzio e Firenze un appello con 100 sindaci per cominciare, ma saremo molti di più per chiedere al Presidente del Consiglio Draghi di intervenire e portare in fondo la legge contro quelle aziende che in modo ingiustificato e scellerato chiudono fabbriche per delocalizzarle in altri paesi europei e premiando invece quelle imprese che credono nel territorio, assumono e investono. Ha salvaguardia dei diritti delle persone, dei diritti dei lavoratori, dei territori e perché casi come quello della GKN non accadano più.